Già prima di Flaubert lo scrittore ha provato ed espresso il duro lavoro dello stile, la fatica delle continue correzioni, la triste necessità di orari sproporzionati per approdare un rendimento irrisorio. In Flaubert tuttavia la dimensione di questa fatica è un'altra, il lavoro dello stile è per lui una sofferenza indicibile, anche se poi la dice spesso, quasi espiatoria alla quale non riconosce nessuna compensazione d'ordine magico, ossia aleatoria, come invece poteva essere per molti altri scrittori, questo sentimento dell'ispirazione. Per Flaubert lo stile è il dolore assoluto, il dolore infinito. Questo è ancora Roland Barthes, da il grado zero della scrittura. Sabato si è tenuto un nuovo workshop della casa editrice Bachemano Lab e si è parlato di racconto e durante l'incontro mi sono trovato anzi a raccontare qualcosa proprio di Flaubert in relazione a una domanda fatta da uno dei partecipanti al workshop che aveva a che fare molto con il lavorare sulla frase, con il cercare di perfezionare lo stile. Quanto fosse utile questo lavoro quasi maniacale di cercare la perfezione estetica, se non fosse invece più importante quello che si aveva da dire, quello che si ha da dire. Questa breve riflessione che poi è nata con i partecipanti al workshop mi ha dato proprio l'opportunità di andare a rivedere questo passaggio di Roland Barthes sul grado zero della scrittura e poi per dire la mia alle persone che mi stavano ascoltando in quel momento. E cioè che molto probabilmente il lavoro che Flaubert compiva sui suoi suoi scritti era qualcosa di effettivamente maniacale, qualcosa che oggi forse non riusciremo assolutamente anche a sopportare, a reggere, ma soprattutto come ritmi. Mi viene in mente, e ne abbiamo parlato anche durante il workshop, la scrittrice americana Amy Ampel che ha anche lei questa cura molto molto importante, molto raffinata dei suoi scritti. La Ampel però, come dire, se lo può permettere, ecco, è una scrittrice di racconti, è una grandissima scrittrice di racconti, questo va detto, e non è inserita molto probabilmente in quel meccanismo agghiacciante che è oggi l'editoria più commerciale, cioè quella che ti obbliga letteralmente a pubblicare e ad essere visibile almeno, almeno con un'opera l'anno, un'opera importante che non siano racconti, perché sappiamo bene che al grande pubblico oggi interessano i romanzi, interessano le opere più corpose, non che non amino il racconto, ma nel corso degli anni, soprattutto da questa parte degli oceani, l'editoria ci ha abituati, ci ha dato in pasto per moltissimo tempo i romanzi e quindi noi abbiamo affinato il nostro palato su questo tipo di forma letteraria. Molto probabilmente oggi il lavoro che Flaubert faceva sui propri scritti è impensabile, è impensabile perché ci sono delle scadenze da rispettare, è impensabile perché ci sono delle tabelle di marcia, è impensabile perché Flaubert si chiudeva in casa giorni e giorni anche per scrivere una sola frase, si isolava completamente dal resto del mondo. Noi non lo possiamo fare, noi non possiamo permettercelo perché quando anche non siamo impegnati a scrivere lo siamo però magari nel fare promozione, nell'essere presenti sui social, siamo impegnati insomma a compiere tutte quelle operazioni oggi necessarie che un tempo non lo erano e allora dobbiamo cercare, come dire, di trovare un compromesso perché sì, la risposta che ho dato poi al workshop è stato sì, dobbiamo comunque cercare di avere una cura particolare per ciò che scriviamo, l'estetica della scrittura è sempre importante. Ora è un qualcosa che si affina col tempo, è anche un qualcosa che bisogna, come dire, avere dentro. Ci sono tante persone che possono rileggere anche un milione di volte quello che hanno scritto e non riuscire mai a capire veramente come fare per migliorarlo, quali sono le cose che vanno tagliate via, quali sono le cose che proprio non vanno. Mi capita spesso di lavorare su editing di qualsiasi tipo e mi rendo conto che l'autore utilizza anche in maniera molto disinibita, per esempio, forme espressive che assolutamente non non si sposano con il contesto narrativo che stanno affrontando in quel momento e mi chiedo come facciano a non rendersene conto. Potrei fare tanti esempi. Mi viene in mente, ecco, giusto ieri lavoravo su un testo e mi sono reso conto che l'autore ha utilizzato l'espressione uscire dal tunnel che di per sé non è un'espressione errata, non è forse però elegante quando cerchiamo di metterla, di inserirla in un contesto, in una storia ambientata in un'altra epoca, in una storia, come dire, anche un po' raffinata, questo uscire dal tunnel inserito in una descrizione, quindi neanche in un dialogo, è assolutamente fuori luogo e il fatto che l'autore non se ne renda conto mi lascia a volte perplesso. Mi capitano tante, tante situazioni del genere e allora bisogna cercare anche di un po' di capirli, questi autori, perché non tutti possono permettersi i tempi, forse neanche la follia di Flaubert, non tutti possono permettersi la cura della Empel che magari pubblica un racconto l'anno, però è anche vero che non è necessario avere una certa, un certo gusto per l'estetica della scrittura e questo gusto ovviamente non si costruisce semplicemente leggendo ed esercitandosi nella scrittura, molto probabilmente è un qualcosa che si acquisisce anche con lo studio, con lo studio della lingua, del linguaggio, non credo che sia un traguardo a cui si può arrivare senza un po' di impegno e forse anche un po' di sofferenza. Questo implica infatti che spesso molti testi che semplicemente vengono letti per passare il tempo, anche per imparare qualcosa, in realtà dovrebbero essere effettivamente studiati a fondo per riuscire a scardinare la loro costruzione e capire qual è, oltre alla tecnica, anche qual è l'estetica che sta dietro, l'utilizzo delle parole, delle frasi. Le parole sono importanti, a volte una singola parola scelta bene, con il giusto significato, ti fa risparmiare tre righe di testo. Questo è un lavoro che va più in profondità, è un lavoro che molto probabilmente attiene poi alla revisione del testo da parte dell'autore. In prima battuta, durante la prima stesura dubito fortemente che qualcuno riesca ad ottenere simili livelli di perfezione, chiamiamola così, simili livelli di bellezza estetica. Però questo è un lavoro che va fatto poi dopo, successivamente, non è neanche un lavoro che possiamo chiedere o che possiamo delegare all'editor, è assolutamente. È qualcosa che dobbiamo far noi, perché poi questa estetica deve andare a legarsi completamente a tutto tondo con quello che abbiamo scritto, deve fondersi con lo stile, con la tecnica. Non possiamo pensare di consegnare un manoscritto, un testo all'editor con la speranza che poi lui lo renda bello esteticamente. Deve essere già bello esteticamente, deve contenere già in sé quella cura particolare per la parola, per la frase. Ovviamente non c'è un modo, un modo per farlo, non esiste un tasto che lo schiacci e il testo magicamente migliora. È qualcosa che si lega anche molto probabilmente con l'intimo, con l'intimità, con quell'intima forza, potenza di scrittura che è propria di ogni autore. Ed è qualcosa che egli deve poi cercare di coltivare a fondo. Un suggerimento però possiamo provare a darlo. Possiamo provare all'interno di una frase a cercare parole più eleganti, dal significato più preciso, più netto, oppure più ampio se abbiamo bisogno di lasciare che il lettore abbia una visione più allargata di quello che stiamo dicendo. Proviamo a scrivere una frase con le prime parole che ci vengono in mente. Poi proviamo a riscriverla in seconda battuta cercando dei sinonimi. Ovviamente non tutte le parole, ma un buon 50%. Proviamo a cercare dei sinonimi delle parole che abbiamo utilizzato e guardiamo se cambia il senso di quello che abbiamo scritto. Molto probabilmente cambierà perché ogni parola poi porta in sé mille significati, oltre a quelli che gli attribuisce un buon dizionario, ha anche un significato personale. Le parole cambiano, spostano completamente il senso della frase. Dopo questo passaggio proviamo a farne un terzo, ok? Proviamo ora a cambiare con dei sinonimi anche le restanti frasi, anche le restanti parole. Alla fine di questo esercizio ci ritroveremo con tre frasi che apparentemente dovrebbero essere simili, ma provate a leggerle tutte e tre attentamente. Fate caso se davvero il significato è lo stesso, se davvero non siete andati oltre a quello che volevate dire e se magari veramente ciò che avete ottenuto è qualcosa che non vi aspettavate, ma in cui vi ritrovate. Provate a verificare se magari arrivate alla terza frase, alla terza costruzione di frase e non siete riusciti ad andare oltre quello che volevate dire e che magari non riuscivate ad esprimere e che in qualche modo nella prima tesura avete, come dire, costretto in un significato più chiuso. Provate a vedere se ora la frase è diventata più di largo respiro, se riesce ad aprirsi anche ad altri significati, è qualcosa a cui magari all'inizio non riuscivate a aggiungere. Questo è un piccolo giochetto, ok? Non è poi un qualcosa che potete applicare su tutto un testo, è impensabile, però vi aiuta a capire quanto poi l'uso delle singole parole riesce a cambiare tutta la frase. Se poi volete proseguire ancora, fare un passo in più, con quella terza frase che avete ottenuto. Ecco, ora provate a condensarla con la metà delle parole. Scegliete voi quale, scegliete voi anche se fare un mix tra la seconda frase e la terza frase, ma provate ad utilizzare esattamente la metà delle parole, se ci riuscite. Poi confrontate il risultato anche di questa quarta frase, più corta, più rarefatta, rispetto alle altre tre. Provate ad intuirne il significato, provate a cercare di capire se quello che volevate dire forse ora è più chiaro, se quello che pensavate di poter dire poteva essere rimasto nascosto all'interno di un linguaggio che all'inizio vi ha costretto come in una gabbia, non vi ha permesso di liberare tutto il significato delle parole che voi avevate in testa ma che in quel momento non siete riusciti ad esprimere. Provate a fare questo piccolo gioco. È molto utile e col tempo poi si acquisisce una pratica che vi permetterà anche in prima stesura di giocare in questo modo con le parole e di scoprire mentre scrivete, perché comunque la scrittura è un atto di svelamento continuo, soprattutto state svelando qualcosa a voi stessi, perché mentre scrivete di solito non lo sapete dove andrete a parare. Ecco, in questo gioco di svelamento, in questa pratica dello svelamento, provate poi a vedere se effettivamente questo giochetto vi è stato utile in qualche modo per farvi arrivare ad una consapevolezza della parola un pochino più alta. Fatemi sapere poi come va con le vostre frasi. A presto!